Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio, Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI, dove in direzione mare si segnalano 4 km di coda per lavori tra Montopoli-Valdarno e Ponte d'Era-Ovest-Ponsacco. In direzione Firenze, 2 km di coda per un incidente tra Santa Croce-Sullarno e San Mignato. Sempre verso Firenze, coda in entrata a San Mignato. Spostandoci in A1 in direzione Roma, rallentamenti per il traffico intenso tra Firenze-Scandici e Firenze-Impruneta. In A11 in direzione Firenze, rallentamenti per traffico intenso tra Prato-Ovest e l'allacciamento con l'A1. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!